Di nazionalità italiana con un basso livello di istruzione anche al di sotto della licenza di scuola media e questa è la fotografia di quanti si rivolgono maggiormente ai centri di ascolto della Caritas. Il report relativo al 2023 per tutto il territorio italiano, per ciò che concerne la Sicilia, conferma il trend nazionale. Le persone intercettate dai centri di ascolto in Sicilia nel 2023 sono state 12.602, accolte in prevalenza dai centri diocesani ma anche rilevate dai centri di ascolto parrocchiali e di zona. Il 50% delle persone seguite dichiara di non avere un lavoro, il 6,4% lavora ma non riesce a far fronte alle normali esigenze familiari e il 10,4% è pensionato ma si rivolge ai centri per un sostegno. Sono oltre il 10% i contatti che non riescono a garantirsi una casa adeguata, versando in una condizione di senza dimora. La maggior parte delle persone si rivolgono alla Caritas da più di due anni e il 35,4% da più di tre anni. La cronicizzazione è probabilmente dovuta alla complessità delle situazioni. Chi si rivolge ai centri di ascolto spesso manifesta difficoltà in più ambiti da quello economico a quello abitativo a quello familiare. Purtroppo continuiamo a registrare un impoverimento anche nel nostro territorio e come evidenziano i volti più che i numeri delle persone incontrate, si tratta di persone italiane, così Domenico Leggio, delegato regionale Caritas. Ovviamente quanto rilevato dalla rete dei centri di ascolto, è un campione rispetto agli innumerevoli servizi attivati da tutte le chieste in Sicilia e dalle parrocchie, ma rappresenta bene quanto vivono le persone ai nostri territori. Si confermano, conclude Leggio, alcune preoccupazioni come l'abitazione, con tanti senza dimora, la salute, l'istruzione e la conseguente bassa scolarizzazione. Il lavoro non solo precario ma anche povero perché è insufficiente a soddisfare i bisogni della persona e del nucleo familiare, l'impossibilità a raggiungere le proprie aspirazioni e i propri sogni.